E' partito oggi il progetto sperimentale redatto da Monteco SRL, voluto dall'assessore Andrea Guido, per fronteggiare le problematiche inerenti all'avvio della raccolta differenziata porta a porta spinta nei locali della Movida del Centro Storico di Lecce. Il sistema di raccolta differenziata da utenza non domestica tramite Ecomobile va a integrare il normale servizio già attivo, persegue gli obiettivi di incrementare la percentuale di raccolta differenziata in città e va incontro alle esigenze delle utenze non domestiche presenti nel centro storico al fine di tutelare il decoro e l'igiene urbana, concentrato dal 15 luglio fino al 15 settembre, periodo di maggiore fruizione del centro da parte di visitatori e residenti. Ciascuna utenza potrà conferire direttamente i propri rifiuti all'interno di idonei automezzi in sosta presso apposite stazioni, opportunamente segnalate attraverso paline informative. Le frazioni oggetto di raccolta saranno l'organico, il vetro metallo, il cartone e la plastica. I rifiuti potranno essere conferiti presso le aree di sosta e fermate del mezzo di raccolta. Il conferimento diretto della frazione di rifiuto da parte dell'utente nel mezzo di raccolta sarà assistito e monitorato dall'autista dell'automezzo che vigilerà sul corretto conferimento dei rifiuti. Quando uno dei veicoli raggiungerà la propria portata utile si richierà presso un apposito compattatore per effettuare l'operazione di trasbordo. Una volta terminata quest'operazione il compattatore potrà riprendere le proprie attività.